Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siccome oggi deve venire a pranzare a casa mia la mia cognatina Feli, devo andare al mercatino di Ballarò a comprare il pesce, quindi vi porto con me, andiamo dai! Molti mi hanno detto, no, non riuscirò il cellulare, altrimenti te lo tocco dalle mani. Non è così, tutto il mondo è paese, posso solo rubarmelo anche al Politeama, quindi andiamo. Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Questo è quello mio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti.